Abbiamo avuto un crescendo bellissimo, grande energia e ha pagato nel finale, dove la nostra maggiore capacità atletica ha portato al gioco in contropiede, tiri con grande spazio e un divario meritato, secondo me. Mentalmente avete sempre tenuto dietro Chieti, che si è giocata prima il tiro del pareggio, poi il tiro addirittura del vantaggio, ma avete sempre respinto quella che era una squadra che aveva nell'obiettivo raggiungervi in classifica. Sì, non puoi pensare di distaccare Chieti subito a un quintetto con grande qualità, con dei singoli che subisci sempre, come Raschi e Rossi, in situazioni anche poco codificabili, l'importante è essere solidi mentalmente e lo siamo stati. E molto molto generosi, ripeto, difese collettive sul pick and roll di grande qualità e l'attacco che soprattutto nel finale si è passato alla palla con disponibilità e ha creato tiri ottimi. Sul parchè del Parafacchetti la Comarc non tradisce quasi mai, due sconfitte con Castelletto Ticino e Torino negli ultimi minuti ci stanno. Adesso bisogna dare continuità o meglio, bisogna tornare a vincere in trasferta perché da un po' di tempo che non si riesce. Domenica Mantua contro Mirandola. Partita pericolosissima, Mantua è una squadra che gioca in attacco molto fluida, che vive un po' sulle disattenzioni altrui, che ha Venturelli e Losi che hanno tanti punti in mano. Servirà questa intensità, servirà tanta concentrazione, soprattutto in transizione difensiva, ma la partita di oggi è un'iniezione di fiducia clamorosa.